Anzi, 90, 90, ha 40 anni di vita matrimoniale sulle spalle, noi ci siamo conosciuti 6 anni fa, al comune, posta in pensione, all'Anna Maria è una bravissima attrice teatrale, però è una donna che nella vita non ha mai finito, vero? No, 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 anzi, voglio dire una cosa, stasera ritornando qui ho ritrovato la Maria dell'Arte, mi piace l'idea di essere ritornata nel luogo dove ho conosciuto questa splendida realtà, ti ho ritrovato, ho ritrovato un Christian nuovamente brillante, un po' invecchiato, Comunque, ma sono contenta di essere ritornata, grazie Allora, maestro, lei conosce Anna Maria, no? È vero che avete avuto una storia d'amore? E vabbè, che significa? Il grande Gabriele, il gigante buono, è un regista teatrale, un aiuto regista, un attore Cioè, dovete vedere Gabriele che il marino era sgnuola, Gabriele, per contesire, alzi, contesemente, non è la mia ragazza, Gabriele, per contesire, faregli un applauso, facciamo la sua, forza Gabriele, Gabriele Gabriele, lo hai già? Eh, dalla là, ecco, quella è la moglie Vabbè, ma stanno bene insieme, però, eh, stanno bene insieme Cioè, non è la sua metà, comunque Eh? Non è la sua metà, comunque No Qual è la tua metà? Fatemi capire In che senso? Non lo so, se è una tua metà No, è la sua metà No, sì, io sono la metà, mi capisco Eh, ma tu c'hai un'anima grande là l'avanti Eh, un grande, un grande autore, Annibale Luccello, morto prematuramente È un grandissimo autore, Annibale Luccello, non tutti lo conoscono, purtroppo Io so Allora, come ha detto Cristian, è un monologo di Annibale Luccello E si chiama, si intitola, scusate O malediente Io sarò anche un po' cruda nel linguaggio Perché altrimenti non do Non si dà Proprio il, diciamo, l'essenza di questa donna Molto particolare Una donna, una moglie, una mamma Molto particolare Comunque, ecco, sarò anche Dirò anche qualche parola un po' forte Spero che non me ne vogliate Ma nella vita non sono così, voglio dire Non sono così volgato Ma qua ci diciamo continuamente parola Ah, vabbè, noi parolazzi ci diciamo Ma io si vinto a casa Ma qua stiamo Mi devo scusare in qualche modo Vabbè, non fa niente Non è una cosa così a così Ma non è un po' a destra, o trigesimi, a destra nella G, mamma mia, mamma mia bella, Adrianella, Adriana, 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 io dò una poca voce su pancianastro, ehi, ma rubini che non mi fanno stamattina, Adriana, Adriana, e chi ha mamma mia, io dò una poca considerazione, ma dov'è stuposto, a che maniera, mi regalo un po' sempre poco, sei troppo accostumato, sei troppo accostumato, e poi sei pure una poca spuntosa, sei una poca spuntosa, inizia, guardate, 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 guardate a te, parate, guardate, ma tu, ma quando ho trovato, mamma mia, lo va? con un mappato da quattro anni e noi dormiamo sempre e ti pare mai possibile da un e sette a sera se mettiamo in caffa natale o dolire ma ti pare normale che una da fuori e da mattina e il sognone si va a cucchia e poi la sera andate a dormire e che male rienta mi staranno proprio dormire ma dove sta scritto? ma dove sta scritto? non fa niente la mattina a sera quando torna a faticare si sente un po' po' che lui riva si appiccia la televisione e la passa tutta la notte ah no ma i divorzi no ma i divorzi avrà ragionissimo che sono cattolica, apostolica e romana ma se non sa quanta volta questa mattina meglio che non dico a mamma mia ah è che male rienta è che male rienta chi l'ha ragionissima è che è una femmina onesta 43 anni non l'ha mai fatta il corno eppure si che si è malata e che può fare? e che può fare? ah mamma mia che male rienta 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 e che male rienta e che male rienta e che male rienta e se non mi metto a fare un carciofo non mi metto a fare un carciofo no ma dico che sto vivendo che non si metta io fai di fare un barco chissà se con la piegare e patata ha cattato la piegare eh ma mamma Maronna mia bella, ecco la Pasqua, ecco la Pasqua Mamma mia, ti è venuto qui Non credo che ti è? Oh marò, tu è venuto a te la mia, che è buona per la mia Ma non mi vuole che faccia i mici con te Eh, tu è venuto a te la ragazza, la sangue frascia A famiglia mia, tant'anni mai mi vinnano Invece, se le vate te, te ne ha una faccia che ha discusso su te Te ne ha una faccia pesca pesca Che iang a iang, con sangue frascia E tu è venuto a te la mamma mia E la mamma mela, e se ci parla d'un cinema E sempre a fare passaggio O che sta passando ma devono guardare hizo E ho mai guardare lo garpomo, non ne ha pensato Non è facile, non è facile, ma non è un mio beno, mamma mia, Ma tu che stai dicendo? Tu sei nata per una famiglia a me, sì? Tu sei nata per una famiglia a me, maronna, o maronna mia, non ce la faccio, o feca da tanda, ma stai facendo un frasso, da un uomo, pa, rischia, chiesta, non puoi dire, e quando ha visto sì, due misi, un maronna, o mamma mia, e chi è questo? Che fa? Qua famiglia a partire? Se va a fare bene, palma, chi? Sandro. E io sapevo, io sapevo che gente bassa, che gente bassa. E già, a te l'orgoglio non ti appartiene, ti è nata per merda, ma per tanto sacrificio, e c'è una maluata per una bocca, per te far studiare, per te far comprare, o maronna, e chi scuola? O maronna, e chi scuola? Ma sai o non è che sto sempre che fa? Hai un anno i cartone. E siete zitti. è stato detto perché se no cacci mi capite cacci te ne è la coppia disgraziata fedente e qua scopo come fai qua scopo e gli me stia facendo molto più molto male del magistrato quando non dava maestro un po' a certo una faccia ma fai scopo e si ma fai scopo e su mi fai scopo mi fai scopo e si si no cacci gessità si no cacci e perchè questa è una zocca la prima mamma che ti ha guardato una poca non c'è di sticchi e te l'hai fatto ma è una cosa hai capito? è una cosa anzi facemmo una cosa più e presto e presto poi chiamiamo la mamma e lo ammo tutto cos'amico certo lo ammo tutto cos'amico usiamo scurmi in tuo quartiere in tuo palazzo adriane sapate me tra la manzana e quant'è stato questo palazzo? ma puoi dire che quant'è stato? e a dove stai? e che fatica fa questo sangue? segue le orme del padre? ho l'attività industriale o non? nooo fa di grinta tua meccanica e rimbetti a scuola magistrale ho capito? la mia automobilistica diciamo eh cioè tu ascivano a scuola e poi arriva a fare zocca e dall'autofficina e rimbetti eh bravo Adriane eh bravo senta pensare che il povero non mi parte e anche con i propri propri d'amma che stanno veramente sempre non sta buone che io so chi sa quali ornechi stai o papà o papà tuoi ci lascia sempre manca pensieri e dicevi che mi sta coglia a fossa è sempre bene una cosa papà ci hanno proprio il mio amico con mezzatugli mamma hai già la festa ma vuoi accattare la festa papà che bello rilogio che hai visto ma vuoi accattare papà che hai seguito le ragazze e ha accattato il rilogio sempre tu sei stata la mia rovina tu e il padre che te l'hai sempre vincito e io ero malamente io che non volevo farci e il padre mi diceva ma no, ma lasci che non è una buona piccola per ritirare un po' forte lasciate la scuola e vieni bene e gli va a fare azzoccola perché che stai facendo? azzoccola che è? ma non tu mi dici tu? eh e tu t'ha già riuscita figlia mia che t'ha già riuscita non c'è sta manca che lo spuro anche a te padre che a me non ti facevi una mazzata quando serve che l'uomo non c'è sta manca può zittoso anche servimo la gialla di tutte cose non c'è no eh e vabbè ti ha sembrato vincito io che ho risultato e quando avremo l'onore di conoscere di conoscere la famiglia io sto a me che ho affrontato con la voce che mi sconosce ah qual è il cielo innamorato tu che ho i cartoni della lavatrice per il nonno? sai com'è? ingremediamo gli affari di famiglia ah ho capito eh che vogliamo fare? capo? no noi siamo una famiglia ortologata noi siamo una famiglia per bene noi siamo una famiglia per bene zoccola questa si una zoccola no ma io ci siete queste famiglie che stanno in un'altra no no piuttosto che non c'è e gli attacchi come? come qua? tu il tatuato è il mio aereo fammi vedere sono ok uè quando esci con il barcone chiedono il barcone perchè il carico fa la famiglia fammi vedere fammi vedere fammi vedere vai vai si attacca si attacca oh una donna una donna che l'ho vero sembrano proprio oggi che mi faceva una donna una donna ma una donna 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 non ti capisci allora io devo dire che sono un po' coscecata si vede no? porto gli occhiali cioè la vecchiaia purtroppo mi sta pigliando allora mi rendo conto che senza occhiali però da vicino vedo bene con gli occhiali da lontano vedo bene ma questi fogli che tengo che io ho letto decine di volte sono una donna 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 comunque è andata come è andata io vi ringrazio alla prossima resta qua con me Anna Mari perché poi c'è il momento dell'estrazione